Amici di Marci Games, bentornati in un nuovo Face to Face. Bello, bello. Chi è che manca? Quindi oggi faccia tu faccia? Chi è che manca? Chi è che manca? Per favore! Non ne avevo sentito. Amici benvenuti! Loco, ti giuro. Ai fanico un cavanico! Ma che dico? Mi sembra Giuseppe, Antonio Conte quando diceva Maresca, sempre tu! Aia, brutta roba Marci questa roba che hai detto ai tuoi amici, eh. Brutta roba. Boom! Non mi sono concentrato sulla partenza. Ragazzi, io prima ho avuto il tasto della Formula 1 per attivare l'Erst. Ma che gloria sei, che brutto! Di? Raga, ma che fate, raga? Raga, no! Eh, lo prendo! Eh, eh! Io ho cercato di prenderlo nel miglior modo posato i uomini! Chi è l'unico idiota che è passato, Loco, in mano? Io, io, io! Io, perché ti giuro, sono rimasto fermo a guardarvi tutti! Eh, bro, no, io l'ho fatta giusto! Ma Nicco, ma porca miseria, stavo laggando! Ma tu, me, stavo laggando! Poi adesso lo scuso dell'altro! Guardate il video, stavo laggando veramente! Avevi tutta questa connessione, cos'è lagghi, solo tu? Hai preso loco, Marco, per caso? No, chiedo, per un amico, eh! Sì, 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 di qua, ok, perfetto! Oh, papà, papà, papà! So passato! Ma perché? Tu di fare questa cosa? Perché? Perché? No, raga! Dagli auto dopo! No, raga, abbiamo auto dopo! Domenica mi lasci sempre sola! È finita, raga! Raga, è finita per tutti, eh! NICO! È stato Demarchi YouTube! No, Marchi YT, per favore! Raga, 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 raga! Quindi cosa ha fatto Demarchi YouTube? Raga, raga, fatti chiare amicizia lunga, eh! Vi avviso! E' una lampa? Infame! No, chi è il deficiente da dietro, raga? Ti ho usato come scudo! Eh, raga, non ho capito io, stasera! Non ci passiamo più qua, raga! Eh, raga! Devi prendermi bene, ti prego! Ok, mamma mia! Marci, io ti auguro di svegliarti domani con il pannolino! Oh, 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 oh! Raga, sono esploso io, comunque, eh! Nel caso, cioè, se ve lo chiedete! Ho fatto piano, ho fatto piano! Chiunque sia stato, ho fatto molto piano! Hai fatto che sei stato delicato! Oh, gatto! No! NICO! Dio Sanctorum! Mi hai spinto giù! Marci, ma lo sai? Raga, è finita! Guardate il mio veicolo, perché... Ehi! Ehi! Sono matto! Piano! Piano! Bro, dai! Dai! Eh, Nico, per noi è finito! Perché ti sei impennato? Io sono al primo, cieco! Adesso ti giri! Adesso ti giri, Marco, con tutta calma! Posso passare? Perché tu hai scartato! Marci! Che a 200 è arrivato, ti ha preso, proprio bello tranquillo! Cioè, non ho capito io, ragazzi! Sono passato, raga! Ragazzi! Sono passato! Oh! Non ci credo! Raga, io faccio passare! Raga, ma perché la rampa fa tutto questo effetto? Vai a destra, vai a destra! No, io faccio passare! Ragazzi! Non vedo l'ora! Come stai con la ricorsa? Vai, passo! E' un attimo! Muoviti! Io devo rimanere... Oh! Devo rimanere dentro Marco a posto! Raga! Se rimango dentro... Aspetta, arrivo, vi do una mano! Vabbè, Nico, sembrava tipo la cacchina che... Aspetta, bro, fidati di me! Eh, raga, potete aspettare a passare, però? Cioè, Michi! Marci, io sto qua! Marco, io non penso di spostarmi! O ti sposti... O... Marci! Pa, 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 pa! Ma perché mi vieni addosso? Ma perché è qua il checkpoint o se ti sposti... Passami in mezzo sotto, in mezzo sotto! Ma non ci passo! Ma mi schiacci, mi distruggi! Ti giuro su quello che vuoi, Marci! Io faccio di tutto per griffarti il video! No, no, però mi sembra cattiva questa qua! Ogni cosa che possa fare lo faccio! Ma è un po' troppo cattiva! Mi sembra che è niente! Lo faccio tutto adesso! Tutto! Eh, loco, mi sembra che non passiamo quasi! Che non passano loro! È successo? Che succede? Io uso Marco come scudo! Ciao! In punti muoio! Vabbè, cioè... Eh, che qua il checkpoint che devo fare? Buongiorno! Ciao, salve! Buongiorno Giovanna! Che c'è della gente parcheggiata! Sì, stavamo aspettando proprio te! No, Nico ha la rampa! E ora mi diverto! Nico ha la rampa! Ti do 50 euro PayPal se griffi il game a Marci! No! It's time to shine! Marci è primo! Marci è primo! Tutto! 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 Non è vero! Ma io non ci credo! Io non ci voglio credere! Ma non sono io! Aspetta! Non me ne frega proprio niente! Ammazzati! No, no, no! Tranquillo! Lo studio! Adesso è andato Nico! Non ti preoccupare, loco! Cosa vuoi da Nico? Come è volato bene, raga! Vedelo da lontano è magico! Eh... Io avanti! D'altro lontano, ragazzi! Eh, loco ti cedo! Guardi! Ci devo volentieri dalla strada, loco! No, loco, tranquillo! No, loco, tranquillo! Perché non fai la retro! Vai, vai! Loco, io non posso andare! Time to go! Loco, io non me la se... Oh! Vai! Eeeeeee! Allora! Nico! 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 Scusa! Spero che dopo domani ti alci dal letto! Mi ha andato la guida con le lenti, ma non le trovo più! No! Solo le lenti! Mettiti gli occhiali! No, guarda Nico! Io guarda! Stavo per dire una cosa e sto fermo! Io no, veramente! Guarda! Io vorrei dire! Loco, ma dovete svegliarmi freddo! Tranquillo! Ma solo? Ma solo freddo? Ma ci va bene! Ma che diverte la tua vita! Si è troppo bella! Questo mondo per te non c'è Spaccio! Oh signore! Adesso mi tocca aspettare che finisca! Siamo carichi siamo, ci siamo, ci siamo! ARRIVIAMO! Marci! 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 Vabbè voi andate! Bad idea, eh! Ragazzi avete buttato giù! Ragazzi il mio camper c'è gli addominali! Aspetta! Cosa vuol dire c'ha gli addominali il tuo camper! Aspetta! Aspetta un attimo! Aspetta un attimo! Butti giù te! Ragazzi! Tu sono matto! Ma ragazzi perché io te li faccio? Bravo Marci! Oddio ragazzi ho fatto! No come c'è il fan, ti prego Marci per favore! Ragazzi dovete uscigarmi! Allora, quell'altro è una tartaruga! Eccoci qua! Marci lo piglia a Marco! Marci come ha fatto a diventare il primo scusate! Marci ti prego! Ragazzi non ci stiam tutti qua non so se hai capito! Ma perché devi spingere giù proprio me? Ma perché mi spingi dove li spingo! Ma Marco sei andato! Marco sei mutato! No! Raga Marci! Aiuto! Raga Marci è qua fermo di traverso! No! Oh! Non è caduto! Marci per favore puoi rallentare? Marci ti prego rallenta! Marci se mi butti giù mi metto a piangere! Te lo giuro! Ci sono! No Marco dove sei andato? No no! Non ho potuto frenare! Non c'era il mio amico che era qua fuori! Ah! Ok! Oh mio! Ragazzi io non finisco più il camper per colpa di Loco che sta giocando a auto! Eh ma ti prego! Per favore! Per favore! Raga! Raga! Sono io che vi posso aiutare! Aspetta Marco aspetta! Aspetta vi faccio finire vi faccio finire! State dietro di me! Tutti dietro di me! Alleluia! Finalmente arriva! Aspetta aspetta dietro di me! Ok piano 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 venite! No! 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 Vai veloci! Veloci raga! Raga veloci! Grazie! Grazie! Devi fare blackout è fatta! Eh già tornato! Ciao Giacomo Marco! Marci! Marci tranquillo sono qua! Aspetta più un attimino! Ma tua mamma lo sai chi? Vabbè niente! Marci non è stata la migliore scelta quella lì! Ho buttato giù Nico! Ho buttato giù Loco Loco! Veloci raga veloci! 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 Eh Spigi! Vai fai qualcosa! Mamma che curva che ho fatto zio! Raga sta arrivando! Mi faccio passare per favore! Ti grifo l'esistenza! Ciao! Ops! Aspetta che ho io quella auto! Ragazzi! Non posso frenare! Vi prego! Mi sembra una scusa un po' stata! Avevo che sì esatto! Cioè è come di... Ma perché io mi sto divertendo! Loro non si divertono! Eh dai! No Marci! Io non mi sto divertendo per un bel c***o di niente! Hahahaha Quante ragazzi contate mi quante volte sono morto! Hahahaha AHAHAHA No raga! Eeeeee e 95% H orgogla no! Non caduto. No raga ci sono sto andando. Un bel deptho aereo. Ma perché questo c'è già un altro camion? Hahahaha Raga vip c'è vi previ supplico! Vi deve venire cioè vi devono cadere le f*****e in questo esatto istante ma proprio da nunca si sta! Marco perche' Sono alla fine Ti scongiuro Ragazzi Ragazzi guardate Loco continuava a dire che mi ha buttato giù Marco A me non sembra una ciminiera È una betoniera Marco Cosa vuol dire È una betoniera Stavolta per favore Ragazzi vi suppico Sono tredici minuti che sono fermo a questa mano Cioè almeno dieci sono fermo a questa cosa No raga era arrivato alla fine Chi è che è stato E chi vuoi che sia Ho un tavolo nuovo e non posso spaccarlo Bro mi sta spingendo Mi sta spingendo Naga vi giuro Ho sentito fino a qua L'ho sentito C'è un tavolo bianco nuovo Se l'ho scollegato l'iPhone è ricollegato Vi giuro su quello che volete L'ho sentito Mi sono fatto male al polso Stiamo martellando per i vicini sopra Finalmente sono il più grosso Quark è primo Quark è primo Vardy ma si Nico È inutile che ridi le mie disgrazie Ma Nico ha ancora il Phantom No L'ho tolto No Ecco qua Questo è qua Questo qua è qui Basta a sinistra Ok sono passato 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 No Raga Raga Maddy è caduto Perché qualcuno ha fatto da retro Penso a te Bene Raga Tu hai? Tu hai bene? No bro Eh no Raga Adesso Adesso Lo sapete che voi avete fatto Ragazzi Lo sapete che voi avete fatto una cavolata Perché io adesso avrò tipo il Phantom O il coso Cazzo Guarda c'è la stampa Cos'è che avresti scusate? La tecnica è non farlo arrivare fino a quel punto Marco però non buttiamo buttarci giù tra di noi Vi prego Vi supplico Pure tutto il mouse Ragazzi ho fuori pesi Sono esplosi Ah c'è in questo momento che vorrei No È passato È passato Movetevi Ragazzi non sono passato Non sono passato Tranquilli Vai Loco vai Ragazzi ma voi Situazioni difficili Io cosa devo dire C'ho 15 minuti Di nulla Cosmico Boh Bene Eh ma tanto mi sono fregato Bene Bene raga Ti sei schiantato tu Io stavo andando dritto Te lo giuro Su quello che vuoi Spero che la tastiera veramente si scoppi in mano Ti scoppi Guarda Guarda che sarebbe sillarante la tastiera esplosa in mano niente Ma che è di niente Raga Raga Marco 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 No Va bene Vi dovete veramente caccare a do Cioè ragazzi Oh no Ok Vi prego Vi prego Nigo 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 Stavo buttando giù Nigo Nigo Spona Spona Ma è crashato il gioco È crashato il gioco È crashato il gioco Ragazzi È crashato Ti sta bene Ti sta Questo si chiama karma istantaneo In un prossimo video Da Karma istantaneo Karma istantaneo Ero primo Comunque Non è vero Ero primo io No no Io vedo primo Vedo loca Il gioco Grazie.